3, 2, 1... Ciao! Ciao! Chi sei? Tardare. Per te il Pride cos'è? Per te fare il volontario al Pride cosa significa? Voglio un posto dove ci siano diritti uguali. Ciao! Ciao! Chi sei? Sono Tommaso e sono uno studente guaribili. Per te il Pride è? Per me il Pride è libertà. E per te fare il volontario al Pride cosa significa? Per me fare il volontario al Pride significa dare un'opportunità a questa città e fare qualcosa di veramente bello per questa città. Ciao! Ciao! Come ti chiami? Mi chiamo Nicolò. Per te il Pride è? Per me il Pride è un'occasione per confermare e affermare i diritti che riguardano tutti. E per te fare il volontario al Pride significa? Fare il volontario al Pride significa comunicare una cosa importante per tutti nel migliore dei modi. Ciao! Ciao! Chi sei? Sono Alice. E cosa significa per te il Pride? Tanta gnocca! Addirittura! E per te fare il volontario al Pride è? Tanta gnocca! Ok, grazie! Ciao! Ciao!